buonasera a tutti e tutte bentornati e bentornate a tu per te questa sera siamo qui in compagnia di cristina biglia che a breve vi presenterò vi ricordo che a tu per te è un progetto un podcast dell'informa disabile di torino in collaborazione con associazione volum bright come al solito in questo in questo in questi appuntamenti parleremo di disabilità del mondo del sociale di fragilità e non lo faremo in maniera informale facendo una chiacchierata con i nostri ospiti le nostre ospiti partiamo subito come vi anticipavo siamo qui in compagnia con cristina biglia che è la ginecologa dell'ambulatorio fior di loto all'interno dei consultori familiari dell'asl città di torino benvenuta cristina ti ringrazio caterina mi fa molto molto piacere essere qua con voi questa sera il tè confermo che c'è davvero quindi un invito autentico esatto a tu per te non a caso perché l'ora è proprio quella del tè perché quando si beve in tè un tè si fanno di solito due chiacchiere questo sarà l'obiettivo di questo di questo nostro incontro entriamo un po nel vivo di quello che sarà quella che sarà la nostra chiacchierata appunto parlando di prevenzione perché abbiamo scelto il tema della prevenzione perché da qualche giorno è trascorsa la giornata mondiale per la lotta contro il cancro come ci insegni cristina la prevenzione è uno degli strumenti più importanti certo direi che è l'arma vincente i consultori familiari nascono proprio come luogo della prevenzione e mi fa piacere poter parlare dell'esperienza dell'ambulatorio fior di loto che si inserisce proprio in questo contesto nasce da lontano perché ormai nasce dall'indagine dell'associazione verba che era stata fatta nel 2009 ormai tanto tempo fa ed è effettivamente uno dei pochissimi dati su quello che è l'effetto dello screening e della prevenzione oncologica nelle donne con disabilità dove già allora dimostrava un basso accesso alle cure meno del 50 per cento delle donne disabili che accedono alla mammografia rispetto a più del 50 per cento delle donne sane e meno del 30 per cento delle donne disabili che accedeva al pap test questo ancora di più perché chiaramente più difficile eseguire un esame di tipo vaginale che non esporre il seno in condizioni magari di difficile mobilità certo proprio perché cristina ci hai anticipato il il tema della della chiacchierata racconteremo un po qual è l'esperienza del fior di loto e del di quello che fa per le donne per il territorio di torino anche perché si sa in generale abbiamo tanti dati su sulla prevenzione sulle malattie legate a quelle che definiamo le persone normodotate sono quasi inesistenti i numeri e le ricerche proprio che riguardano le persone con disabilità come dicevi tu risale ormai al 2009 la ricerca di associazione verba nostra cara amica che salutiamo nella sua presidente in tutte le sue collaboratrici e collaboratori cosa ci diceva un po facciamo un sunto di questa ricerca ci diceva che la prevenzione non è accessibile alle in particolare alle donne con disabilità perché ho sfogliato un po il questa ricerca e la cosa che mi è spiccata all'occhio è che attraverso una ricerca del gruppo donne will del 2013 quindi legata poi in seguito alla ricerca di verba è emerso che i servizi sanitari sono inaccessibili soprattutto relativamente a due cose alla mancanza proprio di attrezzature di macchinari banalmente di un sollevatore no mi immagino una persona con una ridotta mobilità una donna in carrozzina che deve sottoporsi a un esame diagnostico e che ha difficoltà nello spostarsi in autonomia l'altra cosa importante che è emersa e che spesso il personale non è adeguatamente formato quindi diciamo che questi sono stati punti di partenza da cui poi è nato proprio il fior di loto come si inserisce il fior di loto nel territorio ci sono state delle collaborazioni c'è una sinergia di servizi prima parlavamo proprio no del fatto che l'asl è entrata anzi più che l'asl il terzo settore è entrato nel mondo della del sanitario dei servizi sanitari quindi mi raccontavi proprio che associazione verba si è inserita nel nei servizi non mi ricordo qual era l'anno in cui c'è stata questa questa unione questo matrimonio ma indubbiamente parte sempre dalla sensibilità delle persone l'incontro con Giada Morandi e con la dottoressa Maria Clara Zanotto che è la mia responsabile nel 2013 ha dato luogo al primo accesso della dell'ambulatorio fior di loto aperto alle donne con disabilità per poter eseguire il pap test all'interno del percorso della prevenzione serena perché lo screening regionale lo screening della prevenzione serena e da lì quindi partendo proprio sulla necessità del di aprire lo screening ci siamo poi domandati quanto anche proprio l'offerta delle cure all'interno dei consultori familiari quindi all'interno di un percorso di primo livello su richiesta diretta della donna potesse essere fornito e quindi poi ha preso completamente l'avvio nell'anno successivo proprio l'ambulatorio come configurato con il grossissimo contributo dell'associazione verba e quindi questo è un bel esempio di partenariato tra istituzione e terzo settore perché l'associazione fornisce tutta la grossa parte di raccordo delle prenotazioni dei nominativi la raccolta delle necessità la possibilità di accesso a prenotazione con modalità che poi verranno anche fornite noi immagino in modo che possano essere bypassate anche le difficoltà fisiche stesse nella prenotazione e poi il grande supporto anche di una psicologa formata formata anche in tema di violenza e di abuso e che assiste comunque aiuta per accordare al meglio le nostre capacità professionali ecco quindi lavorare in un team è sicuramente un'esperienza molto bella e molto arricchente per tutti certo quindi diciamo che questo servizio è proprio dedicato a tutte le donne con disabilità con tutte le diverse disabilità dalle fisico motori alle sensoriali a intellettive e quindi per ciascuna donna ciascuna paziente ogni persona che si rivolge all'ambulatorio diciamo c'è un trattamento quasi personalizzato che rende molto più accessibile il servizio non solo in termini mi viene da dire strutturali no quindi l'accessibilità legata alla all'accesso al movimento anche come dicevamo prima allo spostamento da la carrozzina al lettino eccetera ma anche proprio un approccio più sensibile no più attento più proprio più individuali individuali inclusivo forse potremmo usare questo termine sicuramente è comunque necessario partire dalla base avere comunque delle strutture adeguate per esempio un lettino elettrico per esempio un sollevatore ecco questi sono già presupposti necessari importantissimi poter fornire più prestazioni contemporaneamente la visita l'ecografia raccordare il pap test quando necessario in concordanza con la prevenzione serena e queste sono tutte parti imprescindibili e tecniche e poi c'è un fattore umano su cui indiscutibilmente andando avanti a lavorare ci si addestra anche meglio avere la psicologa formata nella mediazione dei segni per esempio con la paziente non udente è fondamentale per comunicare per magari ascoltare le sue richieste e poi comunicare a lei anche banalmente l'esito no della della visita avere più persone di riferimento avere non solo me come ginecologa ma anche un'ostetrica dedicata che c'è sempre stata e alessandra saiano è un gruppo che ha lavorato che ha lavorato bene insieme e indubbiamente questi ultimi anni sono stati difficili con la pandemia è cambiato qualcosa negli accessi ci sono state delle difficoltà come immagino sicuramente perché abbiamo comunque per la popolazione fragile potuto mantenere la possibilità dell'accesso dell'accompagnatore indubbiamente sono stati un po rallentati i percorsi necessità di tamponi necessità di spostare appuntamenti o rimandare al di là dei periodi di lockdown quindi nel 2020 il numero di accessi si è ridotto abbiamo comunque utilizzato anche la possibilità della telemedicina per quello che poteva essere fornire consulenze nell'immediato sulle pazienti già note su proseguimenti di cure visioni di esami e poi comunque nel 2021 il numero di pazienti è risalito praticamente a quelli standard ok mi vengono in mente proprio collegate a quello che hai appena detto descrivendo il modo in cui si lavano qui lavorate le tre parole che ho visto nella nella presentazione della ricerca del progetto il fior di loto che sono appunto spazio tempo e modo lo spazio proprio fa riferimento alla possibilità no di accedere al servizio il tempo come dicevi legato a dare un giusto tempo per la visita quindi impiegare il tempo necessario e magari sfruttare no mi immagino l'uscita di una di una donna che ha difficoltà a muoversi in città e che quindi arriva all'ambulatorio e che nella stessa mattinata può fare più cose quindi può fare il pap test può fare la visita ginecologica può avere un colso un consulto anche breve con con l'ostetrica e poi anche il modo mi è piaciuta la parola modo perché racchiude tra le altre cose quello che dicevi legata alla per esempio alla alla dottoressa specializzata nella lingua dei segni ma anche il modo in cui in cui si accolgono le pazienti perché immagino che da voi arrivino anche persone con disabilità intellettiva quindi è sicuramente ci vuole sicuramente un modo diverso non diverso un modo specifico per rappresentare descrivere comunicare quello che si sta facendo non immagino che spiegare a una giovane donna con una disabilità intellettiva che si sta per fare un ecografia è un po più ci vuole un po più di fantasia diciamo così o comunque ci vuole un approccio un po un po diverso è mai successo in questi anni che tu abbia dovuto trovare degli escamotaggi o comunque dei modi inclusivi come dicevi tu per svolgere il tuo lavoro e rendere partecipe anche la persona di quello che stava succedendo di quello che stavate facendo certo sia la componente intellettiva sia la componente fisica richiedono delle capacità di adattamento anche dell'operatore sicuramente il tempo continua a essere un altro il secondo fattore fondamentale dopo le attrezzature perché avere tempo noi cerchiamo di dare un'ora alle prime visite vuol dire permettere innanzitutto una svestizione più difficile per esempio dal punto di vista fisico vuol dire permettere di trovare la posizione più adeguata a volte può essere necessario magari al di là dell'uso dell'elevatore per esempio sostenere entrambi gli altri gli arti da due operatori diversi però tutto questo in un tempo tranquillo in uno spazio soprattutto dove la donna non si senta di peso non si senta di dover imporre dei tempi costretti ecco e questo è molto importante e per quanto riguarda invece l'approccio con pazienti con disabilità intellettiva ovviamente dipende anche dal grado perché moltissime donne sono perfettamente in grado di comprendere con un linguaggio semplice la necessità di fare gli esami certo che quando a questo si sovrappone una situazione di ingestibilità di non collaboratività nel rispetto di quella che è la necessità per quella paziente perché penso che in medicina non bisogna mai strafare bisogna fare il giusto in ogni situazione però particolari accorgimenti anche solo adattarsi a posizioni magari assolutamente non adeguate però può permettere di fare delle osservazioni importanti un'ecografia può essere fatta anche per via addominale non necessariamente per via transvaginale quindi anche questo è molto importante l'altra cosa su cui sottolineo molto l'importanza è il counseling contraccettivo perché comunque nella popolazione che accede ai nostri servizi nell'ambito della popolazione in età fertile più del 50% l'ultimo studio che avevamo fatto 52% delle nostre pazienti utilizza un sistema di contraccezione o meglio è sessualmente attiva e per lo più utilizza un sistema contraccettivo quindi anche questo è molto importante anche su questo passa anche la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili anche su questo passa indirettamente la prevenzione dei tumori del collo e dell'utero certo anche perché la prevenzione e anche tutti questi strumenti a disposizione secondo me sono anche un po' un messaggio generale che lascia intendere ed esprime la possibilità di tutte le persone di tutte le donne indipendentemente dalla loro situazione che siano donne disabili o non, con disabilità o non la loro libertà, la loro possibilità di viversi una vita sessuale attiva, una vita fatta di prevenzione, di salute, di contraccezione di tutte quelle cose che rientrano nei canoni, chiamiamoli standard per le donne normodotate a questo proposito faccio un po' la polemicuccia della serata facendo le mie ricerche per questa nostra chiacchierata e ti sei documentata bene? e ti sei documentata bene? mi sono documentata, beh poteva andare peggio mi sono documentata e ho letto che è arrivato solo nel 2019 quindi pochissimi anni fa all'interno della camera dei deputati una mozione che prende in considerazione la vita e le condizioni delle donne con disabilità difatti tante testate giornalistiche o blog nominavano, titolavano i deputati o la camera dei deputati conosce finalmente la situazione delle donne con disabilità proprio perché alcune deputate con disabilità e nonno hanno portato anche questa loro esperienza personale di accessibilità ai servizi e la cosa che mi ha sbalordito di più è che si parla di cose che rientrano passatevi il termine, nella normalità si parla di salute, accesso ai servizi, accesso allo studio, accesso al lavoro di cose che rientrano nella normale amministrazione della vita di cui fa parte anche in questa mozione si parla anche di violenza, di discriminazione, di doppia discriminazione hai detto, hai nominato prima proprio la violenza, la violenza legata alle donne con disabilità nel fior di loto se non sbaglio c'è anche un supporto e a tu per te in qualche puntata precedente mi hanno proprio preceduto, hanno fatto proprio un approfondimento su questo però hai voglia di anche solo darci qualche spunto su come si collega l'ambulatorio certo, purtroppo la violenza contro le donne è più alta statisticamente nei confronti delle donne con disabilità e questo è un altro tema su cui immagino a chiunque chiedessimo non avremmo questa percezione io penso che chiunque dei nostri spettatori chiedessimo penserebbe che per esempio una bambina disabile ha meno probabilità di subire una violenza, un abuso rispetto a una bambina sana invece è il contrario una bambina disabile corre dalle due alle tre volte più rischio di subire un abuso e quindi questi dati inevitabilmente portano al fatto che quando ci si approccia in maniera serena e le donne possono avere modo di tirare fuori i loro racconti e i loro vissuti purtroppo l'incidenza aumenta ne avevamo calcolato in uno studio fatto sulla popolazione che afferisce al nostro ambulatorio un 21% di riferiti e abusi non chiaramente in atto pregressi comunque nella storia di queste donne e capite quanto è alta questa per cento è un'incidenza molto alta chiaramente anche perché adesso io parlo delle donne perché sono una ginecologa però se questo discorso indubbiamente va certo sicuramente riguarda anche gli uomini però c'è da dire che purtroppo nel crescere un bambino o una bambina con disabilità si tende a infantilizzarlo a lungo e quindi anche un pochino nel proteggerlo a negare anche quell'esistenza della parte di sessualità che invece andrebbe protetta, sostenuta e per questo motivo ci troviamo poi una giovane donna, una ragazza comunque meno pronta a distinguere anche quelle che possono essere delle attenzioni affettuose da quelle che invece sono delle attenzioni assolutamente negative e abusanti e quindi anche l'uso della contraccezione la difesa della salute sessuale sono tutti temi che sarebbe importante sostenere quello che ci rammarica un po' è che l'età media nel nostro ambulatorio che comunque è un ambulatorio di primo livello e questo ritengo che sia molto importante dirlo cosa vuol dire un ambulatorio di primo livello? vuol dire che il secondo livello è quello che destiniamo alla cura di patologie complesse e per questo esiste un ambulatorio di secondo livello all'ospedale Sant'Anna dedicato a donne con disabilità il primo livello è quello che è destinato alla popolazione nell'ambito dei bisogni di salute di base ed è una cosa diversa ed è lì che è giusto poterlo garantire a tutti con equità di accesso e di tempo dedicato che deve essere a quel punto diverso perché nel secondo livello io vado a guardare una parte già nota nello specifico come è nel primo livello che ci deve essere la massima disponibilità dove si può ancora esplorare diciamo e ci può essere appunto modo di rilevare tutta una serie di bisogni che poi allora diventano di secondo livello e il rischio di abuso sicuramente è una delle situazioni da tenere in conto perché la salute è un problema di salute quello che diciamo sempre è un problema di salute non è solo un problema sociale cioè il trattamento a proposito di salute mi collego a questo tema negli ultimi anni si sta parlando molto di medicina di genere addirittura nel 2018 c'è stata una legge che ha definitivamente inserito il concetto di genere nel sistema sanitario ti lascio descrivere la medicina di genere perché la medicina di genere è una grande intuizione ma non deve essere confusa con l'idea che ci sia una medicina per il genere femminile una medicina per il genere maschile generalmente quando parliamo di medicina di genere intendiamo la medicina degli uomini la medicina delle donne che è un po' così ma la medicina è la medicina per tutti gli esseri umani per tutte le persone però il termine più corretto sarebbe medicina genere specifica nel senso che una singola patologia può esprimersi in modi diversi nell'organismo maschile e nell'organismo femminile e conoscere queste differenze permette la vera cura e la vera prevenzione esempio quello più classico è quello delle malattie cardiache di come si presenta l'infarto nella donna mentre nell'uomo ha questo caratteristico dolore precordiale vetroesternale nella donna può essere diverso può addirittura mancare questa caratteristica radiazione al braccio sinistro eccetera essere un dolore più posteriore sì posteriore o anche legato allo stomaco tipo gas sì e anche con maggiori manifestazioni di ansia per cui la diagnosi può essere più tardiva può essere misconosciuta può essere che sfuggano molto di più gli attacchi che invece vengono riconosciuti prima nell'uomo questo è un esempio di come la patologia cardiaca è sempre la stessa però si manifesta in maniera diversa nella donna disabile chiaramente quando parliamo di discriminazione multipla ecco allora abbiamo la discriminazione di salute legata alla disabilità quella legata al genere quella legata al genere specifico e allora cominciamo ad accumulare tanta roba certo ma perché ho tirato fuori l'argomento medicina che chiamerò nel modo corretto genere specifica perché mi immagino se siamo arrivati al punto di identificare delle differenze di manifestazioni di patologie differenze nelle cure differenze in diverse cose nella diagnostica tra gli uomini e le donne io mi chiedo perché non ci spingiamo ancora oltre e sfruttiamo gli studi e tutto quello che si è fatto fino ad oggi per prendere in considerazione la persona nelle sue caratteristiche e quindi la persona uomo o donna che sia con una disabilità collegata delle particolari caratteristiche quindi in che modo ti chiedo proprio ti faccio una domanda vorrei un parere proprio da medico da sanitaria in che modo la medicina genere specifica può diventare una medicina di genere inclusiva come ci può aiutare in futuro da oggi oggi decidiamo che la medicina ci aiuterà a cambiare il mondo ma in realtà la medicina dovrebbe già prevedere tutto questo è già scritto nella medicina poi purtroppo categorizziamo così come facciamo gli studi e cerchiamo di inquadrare la risposta per esempio di un farmaco allora facciamo le sperimentazioni e di per sé il maggior numero di soggetti che si sottopone alle sperimentazioni è maschio e quindi i farmaci li targhiamo meglio sulla risposta maschile che non quella femminile in realtà noi dovremmo avere sempre una visione olistica del paziente che abbiamo davanti nel suo insieme e nelle sue specificità sicuramente non c'è solo il genere ma c'è anche lo stato di capacità per esempio di comprensione il livello intellettivo la capacità di comprendere il livello linguistico anche per esempio curare perfettamente una persona ma non intendersi perfettamente nella lingua o intendersi solo parzialmente e allora per questo per esempio usiamo i mediatori culturali cioè abbiamo tanti aspetti di cui dobbiamo tenere conto nel momento in cui ci avviciniamo al paziente e per cui il genere specifico sicuramente è legato in questo contesto della medicina genere specifica la differenza tra uomo e donna nella risposta che dà l'organismo ma dal punto di vista della disabilità dovremmo avere una disabilità specifica e delle modalità che però sono quelle di avvicinarsi all'essere umano e nel cercare di avvicinarsi nel modo più ampio e più rispettoso possibile certo io direi che abbiamo un po' trattato, toccato tutti questi punti io spero che da questa nostra chiacchierata io mi ludo sempre di vivere in un mondo dove tutto può sempre andare meglio e ne sono sicura io spero vivamente che tutti questi nostri discorsi che sicuramente sono il pensiero di tante altre persone arrivino nel concreto per rendere la prevenzione la cura la diagnostica qualcosa aperta a tutti a tutte in modo tale davvero che la medicina di genere diventi inclusiva di genere specifica scusami Cristina diventi inclusiva e che possa portare beneficio alla salute delle persone ritorno un po' da dove siamo partiti la prevenzione quindi cerchiamo in qualche modo di tenerci attivi sotto questo punto di vista le persone le donne gli uomini del territorio del nostro territorio di Torino sono un po' più fortunati rispetto ad altri perché possono rivolgersi a servizi ad ambulatori come il Fior di Loto di cui credo sia importante anche dare dei contatti quindi vi lascio vi dico la mail che è progetto ilfior di loto chiocciola gmail.com potete scrivere una mail o mandare un sms un whatsapp al numero 351 991 0585 questi sono i contatti come diceva Cristina c'è una diciamo un'altra fila l'associazione verba si occupa di prendere in carico le richieste che poi vengono vengono girate appunto all'ambulatorio e niente direi che siamo in chiusura come è andata sei ti sei sentita accolta in questo il tè era molto buono ok ora finiamo il tè e e vorrei proprio solo lanciare un messaggio vai pure pensare che il tempo va dato e va anche preteso il tempo è una variabile importantissima e fondamentale per ascoltare le persone solo da un ascolto umile rispettoso si arriva a costruire tanto tutti insieme l'esperienza fior di lotto insomma un po' festeggerà i dieci anni ha dato molto a noi forse più di quanto abbiamo dato noi speriamo si possa diffondere su tutto il territorio perché tutti meritano è stata una soddisfazione in questi anni anche avere richieste di tesiste avere confronti con molte altre realtà e quindi insomma penso che sia speriamo che questi tempi difficili di limitazioni passino e possano permettere insomma un ampliamento dei servizi va bene grazie Cristina è stato un piacere a chiare con te grazie a tutti e a tutte che ci avete ascoltato e vi lasciamo buona serata buona serata grazie a tutti Grazie a tutti.